ragazze e ragazzi rieccoci qua su age of empires 4 continuiamo a dove ce l'avevamo lasciati e francamente mi ricordo ben poco visto che no diciamo riesco a giocarci solo due tre ore a settimana devo dire i giovani ps4 quindi non mi ricordo precisamente dove eravamo arrivati forse avevo fatto fatica in questo scenario qui a forse difendere una cittadina se non ero è quello che era comunque adesso dobbiamo fare l'assedio di dover stiamo sempre facendo la campagna dei normanni la cattiva gestione in inghilterra da parte di re giovanni scatenò un'invasione atta rovesciare il suo fragile legno forse giovanni senza terra e lui è comunque via missione a wallingford all'ombra del castello la fazione di matilde comandata da suo figlio enrico dimostrò di essere ancora disposta a combattere re stefano per la corona ma dopo 15 anni di conflitto entrambi ne avevano abbastanza quindi scesero a patti matilde avrebbe rinunciato al trono a patto che alla morte di stefano enrico suo figlio maggiore gli sarebbe succeduto un anno dopo fu incoronato re enrico secondo e lavorò per far prosperare il regno sotto il potente impero angioino ma ancora una volta ciò che il re aveva costruito durante la sua vita era destinato a essere distrutto dai suoi figli se pareva re enrico secondo ebbe quattro figli legittimi e organizzò la divisione del suo regno tra di loro ma questi combatterono per il dominio contro ogni probabilità il figlio più piccolo giovanni divenne re ma re giovanni era mal visto perse una grande porzione dell'impero angioino conquistato dal padre e fallì nel riconquistarla in costose battaglie pagate dalle tasse dei suoi sudditi i baroni non poterono più sopportare la situazione forzarono giovanni a concordare una carta che limitava il suo potere la magna carta ma violò la parola d'ala i baroni si ribellarono invitando luigi di francia a invadere l'inghilterra nel 1216 luigi salpò per dover e si mise in testa di prendere il castello protetto dalle forze leali a re giovanni era comandato da hubert de burgh descrisse il castello come la chiave per l'inghilterra era così nelle mani dei francesi sarebbe caduto il regno re giovanni aveva suscitato le ire dei baroni inglesi in piena rivolta invitarono i francesi a invadere approfittando della debolezza del re una fortificazione chiave si trovava sulla loro strada il castello di dover ok esortato a invadere dai baroni ribelli l'esercito del principe luigi lanciò un assalto al castello di dover facendo breccia nelle difese esterne le forze di invasione caricarono verso le mura del castello la guarnigione a dover incontrò i francesi con pugni e volontà di ferro dover non poteva cadere ok il comandante hubert de burgh radunò i suoi uomini per rallentare i francesi e difendere il castello esiste all'assedio francese si ma aspetta ok qua ci sono delle fattorie palazzo reale ok area minerale aspetta un attimo spero mi diano un attimo il tempo di organizzarsi spera anche se non ne sono così sicuro fai qualche omino qua ci abbiamo tira allorgiamente allora potenziamo fanteria scelta potenziamo questo e questo tu anzi aspetta qua c'è della pietra e basta non ci sono ris... vai qua fai un po' di pietra sshhh non ne ho niente ok va qui eh vedete anche voi scusate eh non per dire ma arsenale fabbro fammi arco lungo anche se la balè eh però la balestra facciamo due balestre però contro contro dove sei? lanciere temprato va via va via va via mentre la guarnigione del castello sventava il primo attacco francese e si preparava per il secondo una nuova forza di resistenza andava radunandosi nella campagna inglese aspetta eh io intanto voglio un abile arciere e feroce patriota noto come william di cussingham iniziò a organizzare una resistenza contro l'invasione francese determinato a lasciare la corona nelle mani di re giovanni william avrebbe radunato ogni arciere disponibile ok ma sei usa guina per arrivare arcieri con arco lungo da dover eh ma ah qui andate lì qua c'è gente ah che taglia legna si ma qui sono lontanissimi facoltativo produce altri mercanti facciamolo subito dov'è che aspetta c'è il mercato oppure c'è solo la questi sono alleati 100 di oro eh facciamo presto allora vendimi vendimi il cibo ok va bene uno due no che il cibo praticamente è infinito facendo le fattorie ha voglia fammene ancora qua sono in quattro ok scusa vai portare a ceri con arco lungo nei villaggi vicini vieni qua scusa vai qua e poi vai qua ok ho fatto altri mercanti i mercanti generano credo oro ah quanti ne vuole aspetta ah altri un altro con i suoi arcieri riuniti William pianificò un'imboscata alle armi d'assedio francesi mentre venivano trasportate all'accampamento nemico dove sei William ah eccolo mercanti possessi impiegati per viaggiare tra il proprio mercato e un avamposto commerciale neutrale a un mercato alleato e genera oro a ogni viaggio infatti infatti livello ok aspetta eh qua io mi sto preparando si fanteria scelta eh perchè qua non c'è una cava ecco perchè aspetta eh centro città fate un po' di fattorie signore cosa vediamo ah ok a posto? si si ok quattro aspetta eh mille cose da guardare ok l'unità è veramente avversata di abimiturità alleate vicine vabbè ma quindi possiamo assaltare in quatt- così? in quattro gatti? siamo sicuri? vabbè noi facciamone arco lungo soldato a cavallo balestriere lancire fanteria scelta facciamone un po' o quali che perlomeno quali che possiamo aspetta ok ah perchè sono comunque in pochi loro ok ma no il mercante ho preso anche il mercante aspetta aspetta ah ma il mercante non va in automatico un attimo aspetta dov'è? va il mercante via grazie voi venite qua anzi venite qua ecco scusa i mercanti ah ecco vedi ecco fate un bel viaggetto ok 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 bravo William eh dicevamo panteria scelta vai via di arco vai di arco fai un sacco di archi spariamo freccio a volontà eh vorrei potenziare l'arsenale ma c'è bisogno di oro si quindi facciamo così eh questi dormono ah tu fate fate fattorie fattoria go go e vai fertilizzante no questo non mi serve aspetta venta no questo non mi serve ma voi scusate vai vai genera oro vendi vendi adesso potenziamo potenziamo gli proiettili bilanciati ok ok mi intendo una corazza perfetto voi che non state così bene però no ma qui aspetta qui c'è eh questi qua si stanno eh sono un po' lontani eh no vedi no no di qua non si può andare devo fare un altro giro forse ok cosa puoi intercettarli dobbiamo andare a intercettarli però intanto ma dobbiamo anche gestire qui un po' i uomini fammi aspetta c'è una scuderia questa no questo è il fabbro loggiamenti sennò faccio così ah spingarda cavaliere facciamo tre cavalieri continua a farmi dov'è arco intanto è solo legno e cibo il legno è qua non disboscando però qui qua c'è anche la fattoria aspetta questi si stanno avvicinando intercetta 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 quei due ok ah sono l'altro cavallo vabbè questo è un discreto esercito però ah sono qua la pietra è finita qua di legna non ce n'è praticamente cioè devo andare fuori non è consigliato dire eh eh quindi facciamo aspetta facciamo così posso costruire qua sì così aspetta ok ok ah va ok ma quello che non fa niente questi due vai così ok eh sì puntiamo sulle fattorie così poi grazie al cibo questo fa dire che potrei anche no potrei anche fare no non lo posso fare niente tu carissimo William prendiamoli da di alle spalle da qua andiamo eh ma movimento vai va corsa vai vai qui ehm danni corpo a corpo va benissimo danni corpo a corpo ok qua però segna ah qui c'è della pietra e qua c'è qualche albero però però secondo me non è consigliabile ce l'abbiamo il ah sì eccolo qui dov'è il mercato il mercato è a chilometri va bene ma quanto cibo benissimo quello a cui puntavo e fammi il prete un paio di preti aspetta poi potenziamo cosa corde per archi ok questi stanno andando qui ok 40 secondi ma li imboscata le armi di assidio frangite per indebolire gli attacchi ma l'ho fatto almeno ok vabbè adesso che noi li attacchiamo alle spalle qua per quanto e continuiamo a fare balestriere va eeeh non ho più oro ecco ecco 9 secondi vai vai eh qua ok i francesi lanciarono un nuovo attacco al castello ma grazie agli uomini di William il nemico era stato notevolmente indebolito William potrebbe morire aspetta qui mi attaccano vai vai oddio un attimo qualcuno vieni qua vieni qua ecco no ma aspetta leader ferito eh leader ferito o però qua ce la potremmo fare se qua resistiamo un attimo cioè poi li mando tutti da un'altra parte aprete cura ok adesso di qua eeeh ok ah ma non ha non ha devastato il muro dai ah il muro è integro allora torna facciamo così dov'è questa fammi un abitante qua ok che ci abbiamo fatto eeeh aspetta mentre gli arcieri di William indebolivano l'assedio dall'esterno del castello la guarnigione presso Dover respinse l'attacco dei francesi William ordinò ai suoi arcieri di riprendere i loro attacchi contro i rinforzi francesi aspetta sta salvando eh lo so vai 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 uccideteli tutti adesso rianimiamo lui intanto io farei altri cavalieri se fosse possibile però devo ok ok rianimate ecco ma qua abbiamo ripulito alla fine andate qua facciamo toh così balestriere facciamo cavaliere soldato a cavallo vai un po' di eh questo questa qui sta qua nel caso deve riparare ma tutto sano allora ecco qua bravi preti adesso vendiamo vendi vendi cibo vendi cibo ok e vai potenza di cure e posso fare qualche altro potenziamento questo riusciamo il tempo di creazione ok qui stanno curando qua dov'è il nostro ok William è qua prendiamo qualcuno e qua alleati cos'è 6 minuti non so se ce la facciamo eh qua si stanno un attimo e non so proviamo ad andare qua però vediamo ehm no andiamo di qua facciamo ok ok perfetto e perchè lui è che cioè facoltativo eh quello lì perchè lui così va proprio in bocca al nemico eh qua non so se ce la facciamo non so se ce la facciamo ma qua passiamo troppo vicino oh aspetta così ok vai 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 prima che arrivino ecco giusto è vero che c'è la corsa vai vai è un po' strana sta fuoco ok e no no venite qua lasciate stare quelli lasciate stare ho detto vabbè ok 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 adesso questi che vengono di qua qui stiamo facendo aumenta di uno attacco corpo a corpo perfetto anche se avvistò un gruppo di combattenti inglesi impegnati in battaglia contro il nemico e si precipitò in loro aiuto vai vai William vai William tu intanto facciamo altra gente vabbè intanto tu dai metti a fare qualcosa sennò ok 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 cavaliere ah molto bene aspetta qua ok siamo riusciti a diminuire le forze nemiche ok perfetto adesso andate qua anche se ora sta andando da questo lato corri corri qui ok il nostro esercito sta crescendo ok ok va vai ah vai ah il disco gli uomini della resistenza di William continuavano a crescere sempre più uomini capaci si unirono ai suoi ranghi si l'hai già detto come l'hai già detto vediamocela facciamo vai appena abbiamo il potere ecco via prima che to qua ok posso potenziare armi d'assedio non ho armi d'assedio quindi ok li abbiamo intercettati molto bene molto bene ok ok 30 secondi non so se ce la facciamo tornare nei ranghi guarda andate e fate no scusa fate così e poi da lì facciamo che no ecco così vanno di là un po' di corsa così io mi gestisco un attimo qua vendi cibo vendi cibo ok beh 177 unità sono tante gli arcieri di william avevano decimato i rinforzi francesi ma imperterniti i francesi raccimolarono quanti più uomini possibili e lanciarono un altro attacco al castello va allora voi andate di qua e voi andate di qua ecco ok ok e vai perfetto eeeh ok arrivano anche diciamo i rinforzi stanno bene stanno bene stanno tutti bene allora andate qua ok stanno arrivando anche loro ok ok tornate qui tornate qui la resistente guarnigione inglese non si arrese rifiutandosi di lasciar cadere il castello nelle mani degli invasori francesi William spronò i suoi arcieri a continuare gli attacchi contro i francesi sempre più deboli rinforzi sono arrivati ah allora William hai richiesto il tuo intervento adesso sta andando avanti indietro per la mappa chi è chi è ah ma voi allora facciamo che venite venite qua e da qua vi sposterete qua invece William tu stai qua si loro basta no posizionati qua qua ah però eh no così però mi tagli cioè mi si vai addosso proprio al nemico quindi facciamo così ok li aspettiamo lì intanto qui un discreto esercito c'è ancora fammi paio paio e fammi si corazzato vai aumenta riuscita ad attacco si dai ok e mi fai mi fai la spingarda magari palestriere cavaliere ma si facciamo un po' di lanceri soldato a cavallo sono potenziati ok anche se però è 176 200 quindi mi sa che fatti questi poi non c'è più posto vabbè qua loro li aspettano direi che ok intanto questi passano di qua perfetto c'hanno anche due monaci qua quindi eh però ragazzi è andata a dargli una mano allora aspetta però vedo che 174 200 qui tutto è fermo ah qui stanno curando ok aspetta ma guarda quello lì poverino ma vabbè e vedi però sta cosa del prete secondo me non l'ha fatta non l'ha fatta bene cioè se io dico di muoversi e attaccare il prete non dovrebbe centrare nulla cioè un comando riferito ai soldati il prete che dovrebbe dovrebbe rimanere dietro a difendere o comunque a curare i compagni dovrebbe andare avanti per i fatti suoi ma adesso abbiamo anche la ficca di frecce volendo c'è andava un attimo rivista forse l'intelligenza del monaco abbiamo anche la spingarda va bene adesso andiamo a intercettarli solo due eh si si aspettiamoli anche qua va bene visto che attaccano sempre da due fronti tanto vale ridere un po' un po' l'eserci qui si facciamo così diviso in maniera un po' a caso vabbè ok adesso facciamo così ok ok loro ce la dovrebbero fare interrompere ok il monaco sta qua questo stanno qua vedi qua ce ne sono di più eh 170 ok lo facciamo così ok dovrebbero fare andiamo ok qua come prima andate qua da qua no da qua andate qua e da lì fate così no eh no vedete che ho sbagliato così così si e poi da lì ecco così ho messo in coda i comandi ok ehm si va bene intanto cibo ne ho adesso ne posso vendere per decenni va bene posso farne comunque ancora qualcuno uno aspetta di ok 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 balestriere vai di balestriere così e fai così ok un minuto e mezzo ok 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 adesso arrivano anche loro ok ok qui no questi stanno commerciando oro va bene allora possiamo in effetti giusto per fare qualcosa ok ehm l'avamposto qua si fare più o meno un minuto giusto così ok giusto così giusto per fare qualcosa ok 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 in effetti stiamo arrivando anche la tessuva ok ok andate su anche voi torno ok adesso attaccano ancora la determinazione della guarnigione inglese e gli attacchi a sorpresa di william impedirono a dover di cadere ora gli inglesi si preparavano a respingere l'assalto finale dei francesi ok va vai vai lo fate così lo fate così ecco qua fortifica feritoie ok ok attenzione però c'è il monaco qui sta curando ma no me l'ha ucciso stazione spingarda ok ok adesso andate qui dai dai ce la fanno ce la fanno ok 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 manca qualcuno sconfiggi sconfiggi l'attacco francese finale ma scusa qua non c'è più nessuno ah no è appunto non c'è più nessuno no la tenacia dei soldati leali a hubert de burg spinse il principe luigi e i baroni ribelli ad abbandonare l'assedio di dove e grazie agli sforzi dei temibili arcieri di william l'inghilterra rimase nelle mani di re giovanni bene la chiave per l'inghilterra sulle bianche scogliere di dover si age uno dei castelli più grandi dell'inghilterra costruito inizialmente da guglielmo il conquistatore per impedire la nuova invasione ha difeso l'inghilterra per secoli ogni parte di questa costruzione come le imponenti torre di guardia le piattaforme di difesa a strapiombo la fortezza rinforzata i profondi fossati e le mura concenti che fu oggettata per essere impressionante imponente ed esprimere forza ma nel 1216 dove respinse l'assedio francese non solo grazie alle sue caratteristiche architettoniche il comandante del castello Hubert de Barg ispirò una resistenza inglese incredibile di fronte alla forza dell'invasione francese i suoi uomini difesero la fortezza e il loro re con una terminazione incrollabile De Barg descrisse il castello come la chiave per l'inghilterra e grazie alle sue particolarità architettoniche la tenacia della sua guarnigione rimase inespugnato ah no questo l'abbiamo già visto quindi nessun video extra direi di continuare nell'anno precedente alla difesa di dove lo sprezzo di re giovanni verso la magna carta aveva portato l'inghilterra a una ribellione conosciuta come prima guerra dei baroni in tutta l'inghilterra i baroni ruppero i vincoli con la corona e si impossessarono di città importanti tra cui rochester con il regno in pericolo giovanni schierò l'esercito per riconquistare rochester e catturare i traditori a un anno prima si il castello di rochester era caduto in mano ai ribelli re giovanni dovette assediare i suoi stessi baroni ma perché non me l'hanno fatto fare prima questo è un anno prima non sono andati in ordine cronologico vabbè ok gli uomini di re giovanni arrivarono alla periferia di rochester per riconquistare il castello e scacciare i baroni ribelli ma rochester era una grande fortezza che proteggeva la strada per londra e i baroni ribelli erano pronti a dare la vita per non perderla prima di riconquistare il castello gli uomini di re giovanni avrebbero dovuto rinforzare la posizione conquistando il villaggio di chatam questa chatam vabbè facciamo così no erano già arrivati luogo sacro vabbè dai questi sono i quattro gatti ok ma va la gente gli uomini del re presero chatam e iniziarono a preparare un pesante assedio la fortezza di rochester era protetta da forti mura di pietra l'esercito del re avrebbe avuto bisogno di armi d'assedio possenti per fare breccia adesso adesso allora prima di tutto fammi una bella falegnameria qui signorina anzi che andare nel centro città poi un posto cinta qua c'è qualche casetta questo alloggiamenti ah qua c'è perchè qua la falegnameria che non c'è nessuno non ho capito ma questi ah la cava scusate in età ferita possono essere guarite seleziono mona si si lo so adesso me lo dici vai vai si si ma lo fanno in automatico eh basta avvicinarli eh vedi bene vuoi che lo usi ecco costruire un mercato qua no qui no mi piace qua direi si ma ci posso conquistare luoghi sa che seleziono ah questo non lo sapevo ok andiamo lo stanno facendo poi facciamo che ah qua c'è l'area mineraria c'è la pietra no voi andate a fare ah no scusate dopo dopo e voi costruite l'area mineraria qui eh dai ok ok lo stanno conquistando fammi fare qualche abitante ah possiamo avanzare l'età imperiale ok luogo sacro e mo ok non lo so adesso che lo conquista ah ah da oro più 16 oro in automatico va bene qua c'è uno 600 di oro il mercato ce l'abbiamo lo facciamo così ah età imperiale vuole adesso incrocio di precisione ah vabbè ok shhh allora andate a andate a fare legname va ehm anzi la testa dell'oro ma costante oh 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 ma ti permetti ti permetti c'è la campanella se non erro ma vabbè ormai ormai c'è mi ricordo che nei vecchi ah sti monaci vabbè tanto la gente qua continua ma facciamo così dai andiamo a fare le persone ah c'è ancora gente vabbè ne andate bra bra adesso facciamo questo ok tutta età imperiale tutta età imperiale si allora ok ok tutta età del cassetto 1600 unità di cibo 1200 unità d'oro si ma al cibo ci arriviamo adesso anzi vai qua facendo un po' di gente intanto qua è tutto un po' stretto però eh dove metto la roba allora alloggiamenti ci sono aria tiro con l'arco ne mettiamo una qui li volevo mettere vicini ma non c'è spazio shhh no e la mettiamo qui ma porca di quella vacca voi maledetti vabbè questi sono morti ho capito ma aspetta ah e non lo fa ok c'è la gente ok allora tu vai qua poi scuderia cioè non c'è spazio non c'è spazio eh fammela e fammela qui dai scuderia forse va andava bene anche una vabbè shhh poi vai qua devo potenziare l'età imperiale con roba forse non c'è è questo ok alloggiamenti non c'è il progettino ma io vendo legname acquisto cibo ecco fai così fai così ok oh ma scusate riparate e dopo fate eh su via signori si ma qua stanno attaccando un po' eh diciamo così avamposto avamposto altro qui circondiamo un po' tutto ah si però io ho sempre sto vizio dammi un abitante uno libero acqua ho sto vizio no no aspetta fai così così e non volevo selezionare l'albero ma l'edizione ok ok poi venite qua tina farmi uomini per favore mercato acquista cibo vendi legname acquista cibo farmi uomini devo fare più fattorie ok qua facciamo spingata difensiva facciamo una spingarda e fortifica ok facciamo fattorie anche se qui spazio un po' ok ok fammi presto ok 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 vai aha e ogni tanto questi fortifica spingarda fortifica e non ho più pietra poi andiamo qua 84 90 84 90 casette no mi fare una casetta qua tu fai una fattoria qua e non ho pietra adesso vi divido bene aspetta fortifichiamo le tute oh meno male che attacca da davanti mi va bene ok ok questi stanno facendo nulla esordiamo subito fammi spostatevi un attimo ah pietra ce n'è più di pietra porca vacca mappa non fa vedere nulla e se no fa niente allora quando finisce finisce potrei fare potrei fare dov'è no dov'è no molino sì così questo lo cancelliamo e facciamo fattorie aspetta eh andate a acquistare l'oro fortifica pingarda potrei dove è il mercato qua acquista pietra e facciamo pingarda pingarda ok qua c'è tutta una falegnameria qui che è più vicino anche se venite di qua tutti da una parte grazie ok questi fattorie qui no qui non si può ok vediamo volevo vedere se poi si distribuì o non mi ricordo no ho sbagliato non mi ricordo se facendo sto sperimento cioè se l'avevo già fatto qui c'è ah forse posso passare sì posso passare ok si distribuiscono in automatico c'è qualcuno che non fa nulla sì ok chi è ok facciamo anche aspetta prendo uno ho uno palazzo di backshire fuggito a fortezza comportamenti le tecnologie i boni il pazzo ha una gittata delle armi maggiori 50% e il doppio delle feritoie palazzo wingard produce esercito di wingard da poco storico no facciamo la fortezza io li ligo sempre l'aspetto militare ma dove vanno 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 qua vanno facciamola qua ok e costruiscimi delle case va ok dov'è quello che non fa niente non lo vedo vabbè l'ho selezionato ah è qua fattorie do e tu beh sta all'oro ok questo vuoi dare una mano alla signorina qui ok abbiamo si allora guarda la pietra però non mi serve quindi la vendo ok a questi 69 unità di pietra non li posso vendere va bene qua stiamo disboscando allora facciamo a voi mi fate l'arsenal fabbro però come lo possono fare ah ma qui aspetta cioè non so facciamolo qui facciamolo qui questa annulla va e questo leviamolo tanto dobbiamo fare balestriere arciere come al solito poi facciamo un po' di cavalli si soldato si questo conviene un po' di cavalli ok la fortezza insomma poi ci potenziamo per le varie cose si comunque in generale l'ha reso più semplice del vecchio eh del 2 non era così facile andare in sovra risorse era più difficile nel vecchio ci mettevi comunque un po' qua è molto più veloce rapido guarda di qua c'è vabbè c'è questo andate andate ah però la spingarda eh si oddio è forte ah qua c'è dell'oro va ok mette qua per favore si no questa dai possiamo anche far si che venga distrutta facciamo una cosa voi taglia legna andate qua va disboscate qua che ho bisogno di spazio bisogno di spazio no questa vabbè l'asce no anzi distruggiamo non so se non sono un problema ok ok va bene adesso facciamo così potenziamo bene l'estrazione ah no pietra no pietra non mi interessa oro e dobbiamo fare i potenziamenti unità delete vai potenziamo anche ah mi serve l'oro vendi un po' di legname vendi un po' di cibo ecco iniziamo anche questo ah qua sono in due che arsenale fai fabbro ah qua c'è facciamo così no ma lo stava già facendo di là è vero è vero è vero è vero c'è facciamo c'è lo di damasco bardature in acciaio si cavalli vincere uncino facciamo acceo damasco questo ma ci potenziamo per bene voi due costruitemi un'area mineraria qua adesso questi li trasferisco anzi fammi qualche umano aumentiamo le entrate d'oro così non devo sempre stare lì a vendere aspetta non so se insufficienti ok ecco ecco possiamo fare qua è finito quasi parete di cittadelle proietti fantumabili possiamo fare il trabucco ma molto bene allora fai che gli frecce una vita questi ci provano e ha fallito aspetta recinti ma c'è ancora qualcun altro che rompe oh madonna aspetta posso posso fare le mie cose in pace anche qua porca vacca questo adesso risolviamo ripara ripara stanno sì ok ok dai qua c'è un campo ok con nessuno ok questi allora uno va qua no qua sono tutti occupati andate qua e vedi qua non c'è spazio porca vacca andate di qua allora facciamo così eh sì devo farlo per forza facciamo neanche più di uno sto mi la smetto di rompere le balle qua sono in 10.000 ok ok dicevamo corazzato corazzato proiettili frantumabili e mo facciamo i trabucchi facciamone un po' adesso ogni fattoria genera oro si no le risorse veramente c'è arrivi ad averne anche se non vuoi un quantitativo spropositato l'hanno reso molto più appunto accessibile se vogliamo adesso facciamo faccio tutti i potenziamenti tutti tutti faccio tutta senza guardare cos'è lo faccio l'università di ricarica dei balestrieri ok magari dai potenziamo per l'assedio questo tramite l'assedio 4 di protezione dal fuoco facciamolo facciamo tutto qua ho potenziato qui ho potenziato e qui devo potenziare ma devo avere un sacco di oro ovviamente tantissimo oro ok così faccio tutto in coda città di ricarica dei balestrieri 3 secondi di ricarica dei mangani no pensavo di fare solo trabucchi ah qui mi serve la pietra quindi facciamo così ecco facciamo feritoio difensivo a questa struttura ma no fortifichiamo e basta trabucco costa vai facciamo a farne due ecco iniziamo iniziamo a farne due un po' di arcieri esprimiamo oro oh va che stanno stanno facendo un po' di spazio qui questo alla fine non mi va che stanno arrivando qua mandiamo solo loro forse fanno prima ah però fortificando e basta questo non l'avevo nottato non attaccano e se faccio le feritoie oh il trabucco qua ne ancora ecco con le feritoie forse attaccano ok ok facciamo no dov'è ah questi non li ho potenziati attenzione ok 160 c'è qualcuno libero si casetta casetta facciamo un po' case qua ok fortifica fammi le feritoie eh si vi dico le feritoie attaccano effettivamente l'africa di fetch mi interessa qua facciamo mettiamo la velocità d'attacco aumentiamo la spingarda va aumentiamo mettiamo la spingarda ok secondo me sì alla fine così basterebbero anche forse forse non è detto però io sono sempre esagerato ok quanti ne ho fatti quattro sietevi qua questo non serve più ok molto bene lui cosa gli facciamo fare università 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 dove la metto qua lei si sposti ecco e allora ma sta facendo ma guarda qua e no eh fammi qualche boscaiolo qui ecco dobbiamo reintegrare no qua qua madonna no mi ammazzano quelli start qui qui aspetta ok ah lui sta facendo università allora dopo fammi avamposto grazie sbagliato ok tasto dopo che qui così ok ehm si ok vediamo corazza impregnata protezione dal fuoco i luci 50% di costruzione dei trasporti mentre il 20% la salute di tutta la cavalleria questo aventa la corazza delle costruzioni di trasporti no va bene così ma stavano attaccando questi non si sa ah va che c'è un luogo sacro usate aspetta mettetevi qua grazie i monaci sono ancora vivi olive ci sono ah ecco ci sarà qualcuno qui andiamo a vedere ok ah non ho pietra vabbè aspetta prendi acquista fortifica feritoie c'era mi sa che c'era qualcuno ah no no non c'era nessuno questo è rimasto qui non so perché ok ok vai va di luogo sacro ok qui facciamo dov'è scuderia non la trovo mai cavalieri secondo me 5 bastano direi che possiamo anche andare adesso aspettiamo di conquistare questo ok ok qua c'è reliquia manufatto religioso genera oro non abbiamo bisogno cioè nel senso non è così fondamentale poi abbiamo anche finito la cava praticamente e niente allora dai aspetta facciamo così io direi andiamo qui ah questi intanto si avvicinano ma cosa vogliono fare aspetta 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 ne ho ucciso l'abitante cacca e qua hanno finito quindi io direi costruito una bella falegnameria qua distruggete questo e fate il legname e fate il legname schizzerà le stelle le stelle va bene allora stavo dicendo voglio vedere da che distanza da che distanza colpiscono cioè se io li metto qua attaccare se no facciamo movimento d'attacco vediamo ma come sono belle informazioni ok andate anche più avanti ecco bravo ole demolito ok mettetevi mettetevi qua ecco aspettiamo che sfondino che sfondino vai vale ole intanto mettiamo loro in difesa dei trabucchi ok no dovete aspetta far vedere ma colpiscono cosa le persone aspetta colpite qua no eh ok adesso colpite il cancello insomma questa è distrutta non sanno dove andare ok dai che stesso oh posto aspetta come così colpite adesso dove volete basta chi c'era ah ok ok sono un bel po' ma intanto che loro attaccano va fammi balestriere arciere ok poi fammi cavaliere ok fammi panteria ok così se per caso non dovessero farcela vedo che sono un po' pochi almeno abbiamo le unità di rinforzo in arrivo questi piano piano devastano perché io spero che come obiettivo primario abbiano di quello di colpire gli edifici cioè il loro scopo quindi ok ok beh un po' ne stanno falciando noi qua comunque ne stiamo facendo avevo appena iniziato ovviamente andiamo andiamo avanti noi andiamo avanti ma se io dicessi colpire lì no dico eh c'è il muro intendo ok ah ecco ecco sono scappati capito dove volete ok qui direi un po' di rinforzo abbiamo eh sì no i rinforzi servono i rinforzi servono no ma i trabocchi no i trabocchi 5 questi sono rimasti qua trabocchi 5 bastano ok ehm dammene altri ok qui un minimo rinforzo ok signori ehi sti preti no preti potete stare qua voi ecco a curarli eh questi sono i lancieri porca vacca qui qui qua hanno disboscato vede mamma mia un po' più rapidissimi inizia fai così anzi fai così fai così to e facciamo così perché se no qua ne stiamo facendo ancora oh alla fine sono più efficaci veramente gli arcieri i balestrieri che le unità corpo a corpo eh non mi posso dire ma è giornata di cattiva ferma no non lo so state di vicini state di vicini è qualche roba che stanno facendo quattro gatti sono questi infatti forse mi converrebbe tipo fare solo aree di tiro con l'arco faccio 10.000 arcieri e questi si non sono efficaci contro le mura ovviamente le costruzioni però con le frecce scendiarie insomma diciamo che se la cavo aspetta un attimo però voi dovete sfondare qua sfondate qua poi qua e poi qua ecco aspetta adesso questi cro questi crolla tutto no ecco ok se voi state qua teniamo la posizione mantini la posizione aspetta adesso spero gli crogli addosso tutto il muro qua stiamo continuando si vai di balestrieri ok che c'è cos'è sto suono non lo so ok acqua finito mai è che questo non mi serve ok le mure interne di rochester infine cedettero e la fortezza indifesa era pronta ad essere riconquistata aspetta così così vai dobbiamo sfondarle tutte ecco ok 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 è così è morto allora andiamo qua adesso lo spazio ce l'ho restate ancora un po' ok dai andiamo a fare arcieri e balestrieri va anzi fammi una cosa adesso lo spazio ce l'ho ecco costruisci mele la quasi quasi e beh effettivamente con i trabucchi potrei però non vorrei devo aspettiamo un attimo possiamo colpire il castello qua ok 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 sono arrivati un po' dei rinforzi avanziamo vediamo eh sono tanti eh ok vediamo non voglio che si avvicino troppo all'esercito nemico vediamo ok ok da qua possono colpire il castello bene vai ok ok va adesso facciamo qui vai 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 ok ok così meno facciamo in contemporanea vai quello crolla mo ok la grande fortezza di rochester cadde per mano dell'esercito del re assicurandosi sia il castello sia la strada per londra mentre la battaglia per l'inghilterra infuriava un disperato re giovanni si aggrappava al trono ok ok colori medievale l'assedio ok questo è quello che abbiamo visto il processo medievale della produzione di pigmenti inizia in una cava per iniziare l'ocra viene macinata in polvere sottile appena macinata viene aggiunta l'acqua poi la miscela viene setacciata ciò che serve sono le minuscole particelle sospese nell'acqua ma la gamma di colori ocra non finisce qui se viene riscaldata avviene qualcosa di magico l'ocra gialla diventa rossa e se viene scaldata ancora crea uno spettro nuovo di colori per trasformare i pigmenti in colore questi vengono legati con l'uovo e con la limpa degli alberi cittadini un motivo popolare nell'occhio era l'uso di stoni e rosa questo è dove immagini blocchi di stoni per farlo sembra che si potrebbe pagare di pagare le stoni per produrre blocchi di stoni e poi li decorare con 5 pezzi per farlo pertanto i castelli medievali non erano certo i luoghi bui e tetri che ci immaginiamo oggi erano pieni di luce e colori e beh poi nel corso degli anni ovviamente la vernice che non è vernice però è andata via eh ovviamente altissima